buongiorno buongiorno amiglia allora vi invito prima di tutto ad iscrivervi al canale se non siete già iscritti a condividerlo con quanti più tifosi della fiorentina che conoscete che continuiamo a crescere ad espanderci a radicarci mi raccomando condividetelo condividetelo e vi invito anche a scaricare l'applicazione onefootball che è molto utile assieme al televideo per avere info notizie ma anche articoli sulla fiorentina articoli su tutto il campionato statistiche live pronosti ve la lascio in descrizione scaricabile gratuitamente personalizzabile con la propria squadra del cuore quindi ve la consiglio ve la consiglio allora partiamo con il video del giorno dopo sulla fiorentina ma che dire partiamo subito da un dato da due partite sono deluso anch'io per quella che è la gestione tattica e tecnica e della rosa e di alcuni giocatori nel senso che quell'utilizzo di sottile esterno nel 352 non mi è piaciuto non mi è piaciuta la formazione che è scesa in campo a sassuolo non mi è piaciuta quella di ieri al di là del modulo al di là del modulo non mi è piaciuto io ho letto la formazione ieri quella prima di fiorentina parma ho detto ma la difesa tutto sommato mi piace infatti l'ho apprezzata il centrocampo se giochi a tre è questo perché voglio dire ammesso e non concesso che zurkowski possa giocare e gradirei anche vederlo alla fine i tre titolari del del tuo centrocampo a tre dovrebbero essere questi ma l'attacco non mi è piaciuto assolutamente premesso questo cioè che da due gare che anch'io noto cose che non mi piacciono molto vi ripeto sempre la stessa cosa cioè che analizzando la classifica e la nostra squadra siamo ottavi con una squadra da nono decimo posto quindi sono il primo a notare certe cose che non mi vanno sono però anche il primo a dirvi tutto sommato stiamo facendo un campionato che per la classifica che c'è e per quella che è la nostra squadra è abbondantemente positivo abbondantemente positivo comprendendo anche quelle che sono state delle scelte di mercato che vi ripeto non mi non non mi convincono e vi dico ancora di più la mia amarezza dopo questa giornata è per le scelte che sono state fatte durante la partita dall'allenatore alcune sbagliate in partenza quelle che ho commentato ieri insomma boateng c'entra avanti in un 4 3 3 ma in qualsiasi modulo non si può vedere piuttosto mezzala vediamo cosa regge proviamolo mezzala proviamolo non so perché il fatto di giocare con ghezzale rispetto a sottile non l'ho capita sebbene poi ghezzale non abbia fatto una partita così negativa ma la cosa che più se devo trovare ripeto una cosa che mi fa che mi crea malessere tra virgolette oltre alle scelte dell'allenatore che pure me ne hanno create ieri e a sassuolo e che spero possono essere corrette che poi rianalizzeremo è proprio la questione del calcio a mercato perché io vedere ok vedere un cagliari che non è che sia sta società che dici è una società ricca è una società opulenta è una società che semplicemente sta programmando bene così come l'atalanta il suo presente il suo futuro è una società che ha fatto dei passi ottimi ok e voi ce l'avete davanti agli occhi l'esempio del cagliari che è una squadra che quest'estate non è che ha speso miliardi che ha tirato fuori i soldi del presidente e li ha investiti cosa che tra l'altro in regime di fair play finanziario non si può più fare ma intelligentemente sacrificato un proprio giocatore che aveva anche il diritto di andare a giocare in una squadra più forte ha preso coscienza che quel sacrificio era necessario e per certi versi anche auspicabile l'ha preso l'ha venduto e ha reinvestito quei soldi per alzare mediamente il livello di tutti gli altri reparti ok e stiamo assistendo ad un cagliari che è la sorpresa del campionato ma neanche tanto perché se uno si fa due conti capisce che ha fatto le cose molto bene e non è la sorpresa perché ha speso più soldi di quelli che poteva non è una sorpresa perché ha un allenatore che ha un fenomeno non ha non è una sorpresa casualmente è una sorpresa perché ha fatto un mercato fatto come dovevamo farlo noi e anche noi quest'estate con tutto quello che ci vogliamo mettere col fatto che abbia una nuova presidenza col fatto che non si può chiedere tutto al primo anno col fatto che comunque si può avere pazienza ma non è che si chiedeva come io non ho mai chiesto di scavallare 300 milioni sul mercato anzi mi sta sui maroni quelle logiche che dicono è devi spendere devi devi uscire i soldi non è più così non è più così io dicevo solo ma visto che c'è il fair play finanziario visto che c'è un giocatore che magari non vuole più rimanere a firenze ma perché non lo vendiamo e ci rinforziamo tipo il cagliari è questo che mi fa nervoso ed è questo secondo me che è stato sbagliato è questo che è stato sbagliato è questo che è stato sbagliato ok e il bello è che c'era gente che diceva se c'erano i della valle chiesa l'avevi già venduto ma magari ma magari ma magari poi il problema sarebbe stato nel valutare poi come avresti investito quella cifra della cessione ma anche chiesa per certi versi io lo capisco non solo per il fatto che è normale che un giocatore voglia andare a confrontarsi con certi ambienti perché mettendosi nella testa di chiesa uno può anche dire ma scusa io sento di avere delle potenzialità ci sono delle squadre grosse che mi vogliono c'è uno può anche avere l'interesse ad andare via diciamo può anche avere l'interesse andare via ma soprattutto chiesa ha bisogno di andare via perché stando in questa fiorentina qua senza stimoli senza voglia si rattrappisce anche la sua carriera io io non faccio un'accusa a chiesa anche se per me è un po sopravvalutato e non so in quante grandi squadre giocherebbe ad oggi titolare ma non gliene faccio una colpa io la colpa la faccio alla società la faccio alla società la faccio alla società perché chiesa potevi confermarlo anche se sarebbe stato un errore perché non si conferma gente che non vuole restare mai potevi confermarlo se facevi una squadra a quarto posto cosa che vi ho detto da giugno ancora prima che il mercato iniziasse adesso abbiamo una squadra che cos'è da nono decimo posto ma se vendevi chiesa senza andare a tirar fuori soldi dal tuo bilancio a gratis tra virgolette potevi magari costruiti una squadra che con cui soldi era più competitiva invece stiamo qua a commentare una squadra che non puoi neanche chiedegli di più di quello che sta facendo perché questi sono i nostri valori questa è la nostra situazione puoi chiedere a montella di farti meno errori e di avere una gestione meno cervellotica della gente e di farla giocare nei suoi ruoli naturali al posto di metterci sempre il suo tocco di personalizzazione che poi crea anche dei problemi più che delle risorse è vero qui sbaglia ma per esempio è lo stesso allenatore che ti ha inventato quasi un colpo di genio perché non so quanti altri allenatori sarebbero stati capaci di farlo sto 3-5-2 questa squadra monca quindi capite che per carità sono il primo a rimproverare questi sbagli a montella ma è vero anche che se hanno che se non facesse questi sbagli sarebbe voglio dirio julgen klopp sarebbe ad oggi a sto livello qua quindi si rimprovero montella ma non sto qui a dire che è che la fiorentina per me sbaglia c'è una lettura sbagliata ti ripeto e siamo sempre lì di alcune persone che pensano che montella sia un freno per la fiorentina che in realtà è una squadra da quarto quinto posto non è così poi vi ripeto sono il primo anche ieri a da due partite a sta parte a non gradire a non gradire la gestione che viene fatta degli uomini ieri per me il fatto che non si sia fatto giocare sottile è inspiegabile è inspiegabile sto utilizzo di Boateng che veramente ma anche il discorso il discorso di Vlaovic e Pedro messi insieme in campo vi dico io che tipo di probabilmente che tipo di disegno ha spinto per arrivare a sta a sta permanenza in campo di tutti e due probabilmente montella voleva fare un po di confusione scartabellare tra virgolette le certezze della difesa del Parma dicendo ma si metto dentro due centro avanti chissà che non si aprono degli spazi magari entra Chiesa entra un altro entra st'altro però capisci che avere due due giocatori del genere che sono identici come i due pesci identici non ha senso non ha senso giocare con Vlaovic insieme a Pedro ieri era la partita di sottile ieri se tu mi facevi entrare sottile ok a gara in corso dopo il pareggio e magari sottile segnava e la vincevi 2-1 ieri montella tutto sommato le critiche non se le beccava perché avrebbe dimostrato magari sì di aver messo in campo una formazione dall'inizio che non era un gran checo i vari Boateng gente un po da sistemare però ti avrebbe fatto dei cambi giusti l'avrebbe sostanzialmente indirizzata a partita in corso e cosa potevi dire a montella niente ha fatto entrare Vlaovic ha fatto entrare sottile ha giocato con 4-3-3 anche diciamo coraggioso per certi versi senza tre titolari però ieri il fatto l'errore più grave secondo me è stato quello vi dico di più l'errore più grave sulla carta è sicuramente sta cosa di voler continuare a giocare con Boateng e centro avanti questo è oggettivamente l'errore più grave ma il fatto di non aver fatto entrare sottile dopo il pari se possibile è ancora sottilmente peggiore come cosa è ancora sottilmente peggiore in tutti i sensi però vi ripeto non sto qui a fare i processi neanche a montella perché vi ripeto siamo comunque ottavi siamo anche in zona tutto sommato buona con una squadra da nono decimo posto io i processi continuo a farli più che altro la gestione del calciomercato che è stata per me farraginosa ma nemmeno che farraginosa è stata è stata incolore perché tu stesso hai in qualche modo fatto sì che lo diventasse non sbloccando la squadra oltretutto dopo una stagione incommentabile quella dell'anno scorso avevi anche avevi anche la giustificazione morale per per precedere sto benedetto chiesa dicevi sto benedetto croce dicevi siamo arrivati c'era già un accordo facevi un po il paraculo dicevi sì il giocatore aveva già odorato il fatto di andar via state tranquilli che comunque reinvestiremo i soldi che tra l'altro lo facevi tranquillamente costruiremo una squadra più forte ti facevi una squadra tipo il cagliari non spendevi niente in più e a sta ora magari eri a commentare una fiorentina che aveva per reparto non aveva sto chiesa che è un ectoplasma praticamente si può dire ma avevi magari tre giocatori da 20 milioni per reparto tre giocatori da 20 milioni per reparto vi facevano schifo vi facevano schifo che tra l'altro con la difesa che abbiamo potevano essere due giocatori da 20 milioni a centrocampo e uno davanti da 20 milioni magari non compravi neanche pedro te ne prendevi uno da 30 cioè io io non so veramente come come possa esserci ancora gente che valuta positivamente il calcio a mercato che abbiamo fatto quando è la stessa squadra qui che abbiamo eccettuati casser e seriberi che sono stati due buoni colpi come io stesso riconosciuto ma la squadra sostanzialmente si regge sui nostri giovani su castrovilli praticamente su altri due tre giovani o su gente che era forte o comunque buona era stata comprata già gli anni scorsi vedi i vari come si chiama milenkovic anche pezzella dragoschi che comunque ieri non è che abbia fatto sta gran partita però non sta neanche facendo malissimo cioè non è che sto calciomercato ti abbia levi levi caceres levi liberi cioè boh non lo so sinceramente non lo so io vedo il cagliari mi girano i maroni ve lo dico onestamente vedo il cagliari e mi girano i maroni ma 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 son contento per il cagliari contentismo se lo merita grande fatto benissimo complimenti anzi alla società cagliari girano mi girano i maroni perché avrei voluto vedere quella gestione e se poi montella vi ripeto pur comunque tracciando un percorso quello di montella che per me ad oggi è positivo sicuramente positivo perché sei ottavo ripeto con una squadra da nono decimo posto non poi rimproverai niente se poi anche montella diciamo certe situazioni da due partite a sta parte le va a complicare però vabbè il nostro campionato è questo ingiusto farsi neanche troppe è brutto però è brutto però dire che che non si possono fare che 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 non bisogna avere voli pindarici o sogni che poi voglio dire non è che stiamo parlando di scudetto stiamo parlando di una posizione quella europea che poteva essere raggiunta con alta gestione del calciomercato già da quest'anno secondo me e che dovrebbe quanto meno l'europa league insomma è una roba che c'è non è che c'è con tutto il rispetto non è che sia la juve non sia l'inter non siamo il milan ma non siamo neanche il sassuolo la spaccia è la nostra storia ce l'abbiamo ecco io se se mi dite che cos'è la cosa che ti fa più girare i maroni della fiorentina attualmente la gestione del calciomercato mi dispiace la gestione del calciomercato ditemi cosa ne pensate un caro saluto